Si chiama Amici della Bufala, l'associazione contro gli abbattimenti dei capi affetti da brucellosi presentata ieri nel borgo rurale Appio a Grazzanise nel Casertano, terra di allevamenti bufalini. Nel Casertano c'è l'80% di tutto il patrimonio bufalino italiano, circa 200.000 bufale, di cui il 15,4% malato di brucellosi o comunque presenti in allevamenti con animali infetti. Gli abbattimenti riguardano infatti anche i bufali sani che vivono accanto a quelli malati. Fino al 2014 era concesso agli allevatori di vaccinare i capi e l'incidenza della malattia era scesa ai minimi. Poi la facoltà è stata cancellata e si è puntato solo sugli abbattimenti e la curva dei contagi è tornata a crescere. La Regione Campania deve approntare un piano di sossegni per gli allevatori, è quanto affermato dal Presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, intervenuto alla presentazione. Difendere la bufala significa difendere la filiera che circola intorno alla bufala. Allora se è possibile vaccinare, perché è possibile vaccinare, bisogna vaccinare per difendere quest'animale. A volte con molta attenzione difendiamo i cani, i gatti giustamente, i giuccelli. Nessuno si preoccupa di difendere un animale come questo che porta ricchezza alla nostra provincia e alla nostra regione. Domenico Fenizia, Presidente della Neonata Associazione e il Sindaco di Grazzanise Enrico Petrella. Dobbiamo studiare un sistema di allevamento e di utilizzo delle procedure sanitarie affinché le bufale ammalate possono essere separate e quelle che si risanano reinserirle nuovamente nell'allevamento. Dobbiamo partire dalla sostenibilità, dal concetto di bellezza, bellezza del territorio, bellezza e salubrità degli animali. La bufala deve essere al centro del nostro territorio. La bufala non è un bangomat, bisogna rispettarla, amarla, sostenere lo sviluppo del territorio attraverso politiche che vanno verso una maggiore salubrità, una maggiore attenzione alle esigenze degli allevatori, un maggior rispetto del territorio.